A Gela nella serata di ieri, gli agenti dei commissariati di Gela e Niscemi vedevano transitare un'autovettura Nissan Micra di colore blu con due giovani a bordo. I poliziotti in servizio e in abiti civili, a mezzo distintivo di segnalazione manuale in dotazione, intimavano l'alta all'autovettura che avrebbe proseguito la propria marcia, venendo a contatto con il paraurti posteriore nella parte sinistra dell'auto di servizio. Un passeggero della Micra apriva lo sportello della vettura cercando di dileguarsi, portando con sé un sacchetto di plastica di colore bianco. Il giovane veniva bloccato e si provvedeva a recuperare un sacco e un cellofan che risultava contenere sostanza stupefacente del tipo hashish, risultata del peso complessivo lordo di 5 kg. I due giovani venivano identificati, Giovanni Simone Alario, 27 anni, e Gianluca Cardizzone, 36. Nel corso della perquisizione sul posto veniva rinvenuto nel marsupio trovato in possesso di Alario la somma di 240 euro. Nella sua abitazione venivano trovati anche 1.040 euro e 19 dosi di cocaina per un peso di 7,81 grammi. Nell'abitazione di Cardizzone è trovata la somma in contanti di 400 euro. Gli arrestati sono stati condotti nella casa circondareale di Gela, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria.